Elisabetta Gregoracci passa un'intera giornata fuori con suo figlio Nathan, e un amichetto nelle foto li vediamo a pranzo in una paninoteca, poi tornata a casa trova una dolce sorpresa, le sue fans le hanno inviato un aereo. Proprio come quando lei era nella casa, forse Elisabetta a nostalgia di quei tempi ringrazia commossa le fans. A fine serata un'ultima passeggiata per finire al ristorante a cena, e portare i due monelli come ne chiama lei a casa. Canale YouTube Fabio Pecce Grazie